Dobbiamo anche riuscire a ciuffare il pari e tenerla in bilico e probabilmente sarebbe andata anche in maniera diversa, non avremmo preso sicuramente il secondo gol quando eravamo tutti sbilanciati in avanti, ci sarebbe stato proprio equilibrio e probabilmente la partita sarebbe andata anche ai supplementari. Però detto questo, d'altronde i portieri sono lì per parare, credo che Sala abbia fatto a pieno il proprio lavoro, non siamo stati bravissimi a concretizzare le occasioni che abbiamo creato, mentre loro, mi sembra che nelle due occasioni pulite ci hanno fatto il gol perché l'altra occasione è stata quella su una posizione laterale dove Gian Maria Rossi ha parato, mi sembra da sentire così, proprio sulla linea di porta, ma grandissime altre occasioni pulite, limpide non ne hanno avute. Se vado a contare a livello generale le occasioni ci sono equivalse, però nel calcio contare chi fa gol e i gol li ha fatti la ternana e al turno successivo ci vanno loro.